Indipendenza Veneta non parteciperà direttamente alle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018. Esprimeremo però la nostra posizione ufficiale. Premesso che, essendo un movimento politico veneto, Indipendenza Veneta non sostiene partiti e movimenti italiani. Indipendenza Veneta è sempre per il diritto di voto. Indipendenza Veneta non darà nessun sostegno ai candidati che hanno boicottato il voto veneto sull'autonomia del 22 ottobre 2017. Indipendenza Veneta però ha anche preso atto che la legge elettorale attuale esclude la partecipazione di liste venete territoriali. Indipendenza Veneta appoggerà il candidato che sostiene e difende, se minacciato dalle autorità italiane, il referendum sull'autodeterminazione del popolo veneto. Indipendenza Veneto Lavorerà per ottenere il completo autogoverno per i comuni veneti e per la regione veneto. Cancellerà svantaggi economici e normativi che ostacolano il Veneto nei confronti delle altre regioni. Promuove l'Europa dei popoli e non quella degli stati. Promuove l'insegnamento della storia veneta nelle scuole del Veneto. Indipendenza Veneta continua col suo costante impegno al fianco dei veneti e a difesa del territorio veneto. I punti programmatici che prima vi ho elencato li potete trovare all'interno del nostro sito internet www.indipendenzaveneta.com con il modulo d'adesione allegato. Quindi in vista del 4 marzo 2018 auguriamo a tutti buon voto.